Un sistema perturbato dal nord atlantico si è spinto fino al mediterraneo con conseguente rapido e deciso calo della pressione sul golfo di Genova. In Toscana lunedì 23 novembre nuvoloso con piogge sparse nelle zone meridionali in estensione dal pomeriggio a quelle interne, nevicate in Appennino sino a circa 700-800 metri, localmente inferiori in Casentino e Alto Mugello, venti orientali moderati o localmente forti, mari poco mossi a nord dell'Elbe e sottocosta mossi a largo, temperature stazionarie minime attorno a 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge più intense dalla serata, a Lucca e sulla piana temperatura minima 6, massima 10 gradi, in Versile sul litorale minima 5, massima 12, in Garfagnane zone montane minima 2, massima 8 gradi, martedì migliora con cielo da nuvoloso fino a poco nuvoloso o sereno.